investimenti e pesaro capitale ricci prepara il 2023 approvata la legge sul parco san bartolo il comune di pesaro contesta feste con l'influenza e caccia ai farmaci fanno contro i botti di vieti da domani all'epifania il capodanno dei pesaresi fra cenone e vacanze ben ritrovati su rosini tv benvenuti al nostro telegiornale di oggi oggi è giovedì 29 dicembre apriamo questa edizione occupandoci dei temi emersi questa mattina dalla conferenza stampa di fine anno che si è tenuta nel comune di pesaro con il sindaco mateo ricci che guarda ad un 2023 molto ambizioso dal punto di vista dei progetti per la città ma anche dal punto di vista dei preparativi di pesaro capitale della cultura 2024 un caffè da sorseggiare in una chiacchierata fra piazzetta mosca e casetta vaccai all'uscita dell'ultima riunione di giunta del 2022 così matteo ricci questa mattina ha fatto il punto su 12 mesi particolarmente intensi che il sindaco di pesaro e la città stessa si lasciano alle spalle guardando oltre a un 2023 non meno fervente in vista dei preparativi a pesaro capitale della cultura 2024 dalle opere pubbliche ai progetti dalle speranze alle preoccupazioni ricci accompagnato da buona parte degli assessori affrontato trasversalmente tanti argomenti a cominciare da quelli emersi dall'ultima riunione di giunta con tanti fondi pnr da mettere a terra e altri bandi da intercettare progetti del pnr intanto l'asilo di via rigoni nuovo che faremo tre milioni e mezzo altri interventi culturali su palazzo almerici e quindi continuiamo in questa fase di progettazione per mettere a terra le tante risorse già prese e al tempo stesso per continuare a prenderne proprio ieri è arrivata la notizia che abbiamo dato insieme all'assessore franquellucci del casa delle tecnologie altri 11 milioni che arrivano a pesare quindi 2023 avrà un duplice effetto da un duplice obiettivo da una parte quello di mettere a terra le risorse prese il più velocemente possibile e l'altro quello invece di continuare a prenderne perché ci sono ancora tante opportunità che possiamo cogliere per la nostra città per la nostra terra ed ora un 2023 diviso fra ambizioni ansie e tensioni in vista della tanta carne al fuoco messa dal comune fra opere da completare e una capitale della cultura da organizzare ma un po di ansia un po di tensione ansia rispetto alle opere che dobbiamo mettere a terra perché fare opere pubbliche in italia complicatissimo ci sono una serie di incognite pazzesche sono entrato ovviamente nell'ottica dell'eredità perché del miliardo e otto che abbiamo portato a pesero stiamo parlando di 1800 milioni di investimenti per la nostra città una buona parte non li vedrò da sindaco li vedranno coloro che verranno dopo di me quindi quindi quella sarà l'eredità che lascerò alla città e alle nuove generazioni però c'è una parte invece che vorrei realizzarle vorrei realizzarle prima della fine del mandato e in cima in cima le ansie c'è il vecchio palazzetto dello sport proprio in questi giorni c'è la scelta della ditta che dovrà finire i lavori quindi insomma incrociamo le dita e quella diciamo sta in cima le ansie poi tanta tensione invece per continuare a prendere risorse al tempo stesso per prepararci alla capitale italiana della cultura del 24 il 23 sarà un anno di presentazione sia in italia che all'estero è un anno anche di grandi eventi che in qualche modo cominceranno a dimostrare cosa succederà dal 24 quindi insomma un anno sicuramente molto impegnativo da tutti i punti di vista però cerchiamo di far prevalere l'ottimismo e di far decantare un po di ansia perché con l'ansia non si lavora bene minore è l'ottimismo di ricci di fronte al tema sanità e alla gestione di diverse politiche regionali sulla sanità l'unica cosa positiva è l'accordo che abbiamo fatto sul nuovo ospedale che è un accordo di mediazione ma che è comunque un accordo importante perché parliamo di oltre 200 milioni di investimenti che si faranno e per il resto la sanità non funziona e non funziona e funziona peggio di prima questo è il dato di di fatto basta andare all'ospedale basta andare al pronto soccorso basta parlare con i medici con i base basta parlare con chiunque affronta la sanità siccome sono passati due anni e mezzo dalla nuova giunta regionale adesso bianchi si prendono le loro responsabilità è finita la fase del dare sempre la colpa a chi c'era prima e soprattutto negli ultimi due anni e mezzo la sanità invece di migliorare è peggiorata quindi se c'erano delle critiche da fare prima adesso purtroppo la situazione è ulteriormente peggiorata e questo è un dato di fatto quindi grande insoddisfazione sull'andamento della sanità è un ricci che saluta il 2023 mettendo due buoni propositi davanti a tutti per quel che riguarda la vita dei pesaresi ma sicuramente lavoro e diciamo un minor costo energetico che consenta alle famiglie e alle imprese di affrontare il 2023 con un po più di serenità dopo una riunione che si è protratta fino a notte tarda la regione Marche ha approvato una nuova legge di gestione del parco san bartolo fortemente contestata però dal comune di pesaro in una riunione protrattasi fino a notte fonda per l'approvazione del bilancio regionale la regione Marche ha dato anche l'ok alla nuova legge sulla gestione del parco san bartolo una proposta di legge già fortemente contestata da una settimana dai consiglieri regionali di minoranza michela vitri su tutti così come dal comune di pesaro da quello di gabice e dalla provincia che da giorni si sono scagliate contro un emendamento che prevede l'allargamento delle cda del parco dagli attuali 5 a 7 membri e quindi l'aumento dei rappresentanti regionali da 1 a 3 il sindaco di pesaro matteo ricci già nei giorni scorsi l'aveva definita una occupazione politica indegna concetto ribadito questa mattina a legge approvata una vera e propria occupazione di un parco che ha bisogno di grande collaborazione istituzionale e di coinvolgimento delle associazioni ambientaliste degli agricoltori un equilibrio dei parchi che giustamente diventerà oggetto di un ricorso e quindi sarà ricorso da parte di federparchi perché ritengono la normativa incostituzionale ed è una frattura istituzionale abbiamo scritto come comuni di pesaro gabice la provincia per evitare questo strappo pensando che fosse un'iniziativa di qualche consigliere invece l'avvallo di ieri significa che è un'iniziativa di tutta la giunta regionale quindi un atto molto grave da parte della regione è uno strappo istituzionale su un bene che non va occupato ma che va valorizzato invece mi pare che abbiano in testa soltanto l'occupazione politica del parco San Bartolo e non la sua valorizzazione. Tempo di bilanci di fine anno anche nel comune di Vallefoglia un comune che si prepara ad un 2023 fortemente caratterizzato dall'inaugurazione di nuove opere pubbliche. In un anno fortemente caratterizzato dagli strascichi del covid e dal conflitto russi Ucraina è tempo di bilanci anche per il comune di Vallefoglia. Un 2022 complicato come rimarcato dal sindaco Ucchielli concluso però con un bilancio in ordine e con la proiezione ad un 2023 che sarà all'insegna di diverse inaugurazioni sparse sul territorio. Perché l'aumento del 20-30% nelle opere pubbliche e di tutti i servizi per fare un'operazione diciamo di conti in ordine è stata molto complicata però ecco ci siamo riusciti. Questo ci fa guardare con fiducia e con speranza anche al 2023. Siamo nel nuovo comune che inaugureremo penso entro il mese di gennaio, devono finire un po' di sistemazioni esterne e inaugureremo a gennaio il nuovo depuratore che dà una idea di un nuovo risanamento igienico-sanitario e ambientale di tutta la vallata e di tutti i comuni di questi 50.000 abitanti e poi a primavera inaugureremo il nuovo teatro Giovanni Santi a bottega di Vallefoglia e poi inizieranno i lavori sia dei nuovi 60 posti del nido a Pian del Bruscolo sia i lavori non appena approvati i progetti di innalzamento della palla di Unigi per far giocare la squadra di Serie A femminile a Montecchio e non più a Urbino e per 1.600.000 euro 1.500 posti, 8 metri e le mura castellane a Colbordolo a Colbordolo sono stati fatti lavori di metanizzazione e di depurazione per oltre 2 milioni di euro andranno in appalto altri 5 km di piste ciclopedonali Argomento quanto mai centrale per il prossimo anno è il tema sicurezza sul quale Ucchielli ribadisce come necessario il potenziamento della coordinazione tra i diversi organi di controllo La sicurezza è la sicurezza sociale, è la sicurezza per il lavoro, è la sicurezza dell'avere un'abitazione è la sicurezza anche tu cur di un potenziamento, rafforzamento della polizia di Stato, della polizia locale è una cooperazione fra loro per garantire tutta la sicurezza immaginabile possibile sapendo che la gente non può essere più abituata come era a lasciare le case aperte perché? Perché qui c'è ricchezza, tanta ricchezza e quindi c'è appetibilità anche per la malavita organizzata Nei giorni scorsi ci siamo occupati di questi giorni di feste fortemente condizionati dall'influenza che ha messo a letto tanti marchigiani e che come vedremo nel prossimo servizio ha scatenato anche una sorta di caccia al farmaco per contrastare i malanni del periodo Un periodo natalizio, quello del 2022, caratterizzato fortemente dall'influenza australiana che sta colpendo l'intero territorio nazionale da qui le innumerevoli corsi in farmacia alla ricerca dei farmaci anti-influenzali proprio quei farmaci che da qualche mese però scarseggiano tra le farmacie italiane così come in quelle della provincia di Pesaro Urbino dall'antinfiammatorio Brufen al Fluimucil, dal Clenil al Fluibron per l'Aerosol Giusto qualche nome dei medicinali più conosciuti e utilizzati che però da qualche mese sono diventati pressoché introvabili tra le strutture del territorio Una ventina sono le farmacie tra comunali e private sparse nella città di Pesaro e tra queste la più attrezzata è la farmacia Mari di Samuele Paolini in via Rosselli Una situazione che si è venuta a creare da due o tre mesi a sta parte che sembrava che era momentanea e invece questo va avanti ormai da tre, quattro, cinque mesi e che poi il problema è che non si sa e nessuno può programmare quando terminerà questa problematica Noi siamo forniti e siamo in grado di garantire il servizio con la dispensazione del tipo Brufen, Nurofen e tanti altri nel magazzino proprio nostro interno su per la farmacia per arrivare a fine gennaio o metà febbraio per stare sicuri La differenza è dettata dal fatto che nel tempo da quando il dottor Paolini ha preso in gestione la farmacia circa dieci anni fa è riuscito a sostenere economicamente e con sacrifici una referenza diretta con le case farmaceutiche senza connettersi con i grossisti Questo rapporto diretto gli ha permesso poi oggi di godere di un rifornimento tempestivo abbondante dei medicinali che gran parte delle altre farmacie, non solo di Pesaro ma anche nazionali, non riescono a disporre Sono piccoli lotti con piccoli quantitativi Naturalmente la farmacia Mari con l'organizzazione che ha negli ordini quindi appoggiandosi ai grossisti solamente con quello che non si può proprio fare a meno garantisce un servizio diciamo non al 100% ma quasi molto vicino Il fatto che i farmaci siano reperibili col contagocce è dovuto sia alle conseguenze scatenate dal conflitto russo-ucraino ma anche da altre problematiche delle quali i farmacisti non ne sono a conoscenza Sembrava che ci fossero dei laboratori di materie prime in Ucraina e che davano in pratica queste mancanze proprio dovute al fatto del scoppio della guerra ma dopo poi sia per me, dopo non sono stato nemmeno più tante volte a chiedere più di tanto anche perché sembrava come nessuno sa di preciso Comunque sia è una situazione che si è andata a gravare da settembre a oggi costantemente, mese per mese La farmacia Mari è diventata l'unica sul territorio pesarese a disporre di tutti quei farmaci indispensabili per curare i sintomi influenzali Di conseguenza i cittadini che si dirigono nelle altre farmacie vengono quotidianamente rimbalzati e invitati a dirigersi verso la struttura di via Rosselli Le altre farmacie vanno a vedere nel cerca farmaco se abbiamo il medicinale il medicinale da noi è presente quindi le altre farmacie ci mandano il paziente Naturalmente questo comporta una spropositata richiesta di medicinali alla quale la farmacia Mari fa fronte con il buon senso Ci richiedono più di un pezzo quindi la mamma che viene che gli serve il Nurofen ad esempio che siamo una delle poche farmacie che ha giacenza e disponibilità a tuttora e come ho detto per diverso tempo ma bisogna che contingentiamo la dispensazione a una confezione per famiglia in modo da poter allungare il più possibile la giacenza interna A differenza della città di Pesaro il comune di Fano ha emesso un'ordinanza di divieto di esplosione di petardi e fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale dal 30 dicembre fino al 6 gennaio Andando nello specifico dell'ordinanza l'esplosione dei botti sarà consentita solo ad una distanza superiore a 300 metri dalle abitazioni dai ricoveri di animali ed affezione o da luoghi di allevamento è vietato in ogni caso l'utilizzo di articoli pirotecnici che superino la soglia dei 120 decibel Ordinanza di divieto anche nel comune di Urbino ma solo per quello che riguarda il centro storico e solo nel periodo compreso fra le 22 del 31 dicembre e le 4 del 1 gennaio i trasgressori delle ordinanze saranno sanzionati con multe che vanno da 50 a 300 euro Nel nostro telegiornale di ieri sera vi abbiamo argomentato tra l'altro le motivazioni per cui Pesaro non ha emesso ordinanze simili a quelle di Fano e di Urbino una mancanza che viene contestata da più parti come anche dal consigliere comunale di Forza Italia Michele Redaelli Siamo a poche ore dalla notte di San Silvestro l'amministrazione ancora non ha affrontato un tema ricorrente che tutti gli anni occorre invece affrontare e occorre affrontare per tempo che è quello della gestione dei botti dei petardi che vengono utilizzati nella notte di Capodanno e anche nei giorni appena prima e appena dopo e il fatto che l'amministrazione non stia affrontando questo tema crea un problema questo tema è importante per due motivi principali il primo riguarda gli animali gli animali a affezione come i cani e i gatti che sono terrorizzati dalle esplosioni e spesso si vengono a verificare anche delle vere e proprie situazioni spiacevoli che li riguardano motivo per cui sarebbe opportuno intervenire anche con un'ordinanza e il secondo motivo è proprio un motivo di natura di sicurezza perché anche l'anno scorso sono venute a verificare delle situazioni anche pericolose dovute al fatto che la mancanza di un'ordinanza fa sì che le persone si organizzino come credono invece è importante un'ordinanza che coinvolga non solo la piazza del popolo ma per esempio anche le altre aree sensibili come possono essere per esempio le piazze dei borghi piuttosto che per esempio piazza Europa in Baia Flaminia cioè quei luoghi dove ci sono tante abitazioni e tante persone dove a sparare botti potrebbe creare problemi alle persone e anche agli animali ci sono delle aree invece dove queste situazioni non creerebbero danni o creerebbero danni minori che in posti così sensibili ecco un'ordinanza sarebbe utile proprio in questo senso le persone rispettano le regole nella maggior parte dei casi un'ordinanza sarebbe utile perché la maggior parte delle persone sarebbero coinvolte e rispetterebbero le regole si potrebbe festeggiare un capodanno con molti meno problemi e molte meno angosce da parte di tutti chiediamo che l'amministrazione intervenga intervenga il più presto perché le regole devono essere dette spiegate a tutti quanti per tempo altrimenti sono inefficaci questa mattina Giuseppe Paolini appena confermato alla presidenza della provincia di Pesaro Urbino ha scelto la città di Cantiano per giurare davanti al consiglio provinciale nella prima seduta del suo nuovo mandato un segno di vicinanza per i territori colpiti dall'alluvione da parte della provincia che ha ribadito il massimo supporto a risollevare queste comunità ferite nel comune di Gabice Mare si sono chiusi due bandi destinati alle famiglie in difficoltà economica sono state 76 le famiglie gabicesi ammesse al contributo per il sostegno nel pagamento dell'affitto per la propria abitazione il comune rende noto di avere stanzionato 14.000 euro che si sommano ai 78.000 che la regione Marche ha destinato a questi contributi che ora saranno parametrati in base all'ISE dei nuclei familiari gabicesi le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono al parco Miralfiore di Pesaro dove oggi sono stati piantumati 11 nuovi alberi grazie ai fondi raccolti durante la prima edizione di Miraviglia il mercatino di giocattoli usati fra i bambini pesaresi tenutosi per la prima volta lo scorso mese di ottobre dopo aver illustrato ieri i programmi del Capodanno in Piazza Pesaro Fano e Gradara vi segnaliamo anche che nel centro storico di Carpegna si aspetterà la mezzanotte in musica con il concerto degli Elifanchi in Piazza Conti a partire dalle 22 e dunque sono gli ultimissimi giorni di preparativi all'ultimo dell'anno fra vacanze cenoni in casa oppure al ristorante andiamo a scoprire come passeranno l'ultimo giorno di questo 2022 i pesaresi ci stiamo avviando verso gli ultimi giorni del 2022 il 2023 sta arrivando noi siamo andati a domandare ai cittadini che abbiamo incontrato per il centro storico dove passeranno le loro ultime ore del 2022 e le prime ore del 2023 e abbiamo la fortuna con un gruppo di amici di avere un piccolo ristorantino di amici che ce lo riserva per noi quindi lo passeremo con un gruppo di amici lenticchie cotechino oppure qualcos'altro pesce solo pesce e passerete la mezzanotte lì e poi farete altro oppure finirete la serata finiremo la serata lì perché ovviamente ci sono bambini anche piccoli quindi finiamo la serata lì Capodanno come lo passerà? No a Capodanno niente a casa a casa perché non è passata almeno personalmente è passata l'epoca di andare fuori poi sono parecchi anni no parecchi ma sono diversi anni che lo passiamo a casa e quindi perché anche andare fuori è freddo e niente siamo molto tradizionalisti quindi restiamo a casa poi apriamo la finestra e stiamo a vedere che cosa i fuochi che fanno gli altri ma noi abbiamo un bimbo molto piccolo appena arrivato quindi sicuramente a casa e in famiglia quindi un brindisi a mezzanotte poi si vedrà e ho visto una cosa che a me piacerebbe molto fare c'è uno spettacolo teatrale che viene fatto appunto la notte era il teatro d'Use di Capodanno dove lo spettacolo viene interrotto e poi si brinda insieme a tutti gli spettatori gli attori è una cosa che probabilmente cercherò di vedere se qua in zona si potrà fare per Capodanno lenticchie cotechino oppure avete qualche altra tradizione? io non l'ho mai mangiato la prima volta l'ho mangiato l'anno scorso l'è saggio ogni anno però l'ultima volta mi sembra che sono riuscito a gustarlo ma sono anni che ci provo alternativa a lenticchie cotechino? a lenticchie così una bella pizza di scarole fanno a Napoli una pizza che fanno al porno altro che lenticchie cotechino tradizioni pesaresi del 31 dicembre tradizioni pesaresi del primo gennaio una di queste è proprio il consueto bagno di Capodanno che anche domenica prossima vedrà radunarsi decine di temerari alla rotonda Bruscoli di Pesaro per il tradizionale tuffo nelle acque fredde del mare invernale il tuffo collettivo è previsto per mezzogiorno e come ogni anno ci saranno anche le nostre telecamere a documentare questo rituale che poi vi mostreremo nel telegiornale di lunedì e concludiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport domani si chiude il 2022 della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che saluta l'anno giocando alle 20.30 in trasferta a Reggio Emilia contro la Una Hotels attualmente ultima in classifica a quota 4 punti la VL vuole chiudere in bellezza dopo l'onorevole sconfitta con la Virtus Bologna pagata a caro prezzo con il grave infortunio di Valerio Mazzola che oggi a Cotignola è stato operato dal dottor Zini al tendine d'Achille lesionato in un intervento chirurgico perfettamente riuscito a Reggio Emilia la VL sarà seguita da oltre 200 tifosi che sosterranno la squadra alla ricerca di un altro risultato importante verso la qualificazione alle Final Eight dal basket al calcio a 5 si chiude invece con una sconfitta la quarta consecutiva il 2022 dell'Ital Service che ieri ha perso 4 a 1 in casa della Feldi Eboli i pesaresi hanno giocato una buona prima frazione andando in vantaggio con De Oliveira ma poi hanno subito rimonta sorpasso e allungo dai campani che sono fra le squadre favorite alla vittoria dello Scudetto l'Ital Service chiude l'anno in piena zona play out ora bisogna recuperare i tanti infortuni per prepararsi a un 2023 che comincerà il 7 gennaio al Palafiera contro il Petrarca e in chiusura del nostro telegiornale continuiamo a parlare di sport con una comunicazione di servizio perché oggi è giovedì e non ci sarà la puntata consueta di Insieme a Canestro torneremo infatti in diretta il 12 gennaio con tante novità per aprire un nuovo anno di stagione con Insieme a Canestro con il nostro carissimo Marco Cadedu e tutti i protagonisti della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e allora stasera vi portiamo in viaggio in Grecia con la nostra tv dei viaggi l'appuntamento è alle 21.20 sul canale 80 mentre domani torna la nostra rassegna stampa con voi ci sarà Daniele Sacchi vi aspetta puntuali alle 7.20 sul canale 80 in diretta sulla nostra pagina facebook in diretta sul nostro sito rossinitv.it in diretta anche sulla nostra applicazione che vi consigliamo sempre di scaricare grazie per averci seguito allora buon proseguimento su Rossini TV